buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in un posto totalmente nuovo visto qualche video ieri ma devo essere sincero non conosco le piste e siamo a massa piste che mi incuriosiscono perché dicono siano bellissimi effettivamente qualche qualche poggio si è visto molto bello dalla strada e niente dai che dire vi lascio al video avevo le sospensioni chiuse cavolo qui a conoscerle ci spari le velocità cramorose no 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 non è l'x questa è questa qui allora c'è scritto x3 su quel cartello lassù ma se fai forte non lo vedi vabbè ormai ci si torna dopo dai facciamoci un treno in più ormai bella sta pervolica bella 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 Grazie a tutti. Grazie. Dunque ragazzi, adesso ho messo il 360, vi mando. Grazie. Direi che è il momento di rimettere l'attacco normale, dai, almeno mi portano in discesa. Ok, controllavo l'amortizzatore. Sì. 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 Perché è bestia, non conoscendole. Però sono divertenti, eh. Bestia. Non devo prendere più alto, sì. Ok. 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 il copertone lì l'ho rischiata forte è lì mi sono cagato a dorso ok, tutto aperto non ti riesco a controllare lì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.